Ah, il subreddit è diventato un posto estremamente pericoloso, c'è da aver paura ultimamente, tra l'altro siamo a 296.000 persone normali E gli altri chi sono? E DOP Non vi dirò di mettere mi piace perché tanto non lo fate, a Natale puoi fare quello che non puoi fare mai Non possiamo assolutamente, io metto, non possiamo far vedere la parola che c'è scritta lì, signor Alessandro Non possiamo, però inizia perenne e finisce per filo, ed ha a che fare con le persone sdraiate Bocelli al piano, postato dalla Repubblica cieca, troppo divertente, la comicità italiana, il divertimento Quando schiacci una cimice in bagno mentre stai cagando, tu non è il cu... No, quando tuo padre schiaccia una cimice in bagno e lo scontro è a chi fa più schifo Io che spiego a mia madre il motivo per cui da oggi il c***o me lo pulisco da solo Adesso parlo io Ora parlo io Ciccio Chad 08, residente in Terronia E, e, Twitch Io che cerco di spiegare ai miei genitori perché donare tutto il mio stipendio a un quarantenne No, ma allora Ale deve, deve, deve E, e, oscuri quella parola che inizia per P per cortesia, grazie Comunque la base è letteralmente la stessa, però con la caps diversa Impiegati della barilla che cercano di inventare un nuovo tipo di pasta che non comprerà nessuno La tristezza del mio volto e degli impiegati della barilla Cittadini di La Spezia quando arrivano i cittadini di sale e lo zucchero Come avete fatto a mettere 880 upvot tra cui anche il mio? Leggiamo i commenti Io di Spezia quando al sud devo dire dove abito e fanno questa battuta Cittadini di Corsia quando qualcuno inizia a fare una corsa Oh mio Dio, oh mio Dio mi fa male il cuore per il troppo divertimento Figli unici durante dicembre Aprono tutte le caselle del calendario dell'avvento Famiglie con più di un figlio ogni mattina E' uno stallo natalizio Golden content Te l'avevano già messo Everything is fine Bellissimo Devastante Troppo bello Io che nel 2023 cerco di capire la funzionalità di Instagram Si stanno mettendo talmente troppe cose Ma il verificato non arriva Quello no, non vi preoccupate La mia spesa Pringles Delle spugnette Dei guanti E degli elastici Allora questa cosa è estremamente acculturata Io conosco amici che lo facevano con le bistecche Si è abbastanza cringe Però se mi seguite sull'altro sito Ci ha raccontato un'esperienza un mio amico Facemolo la stessa cosa con le bistecche Se non avete capito di cosa stiamo parlando Aiutatevi qua sotto nei commenti E spiegatelo in maniera fattibile per YouTube GPS destinazione raggiunta Sei arrivato a casa Io e mio padre che realizziamo di non aver tolto la VPN Ti devo dire Papà siamo arrivati in Antartide Posto che è irrealistico sto me Perché c'è tu con la macchina dove puoi arrivare al massimo Se parti da Milano ad esempio Polo Nord non ci puoi arrivare perché dovresti fare Eh no dovresti andare in acqua È impossibile è fake A parte che qua siamo in Antartide e qui sono i pinguini Buonasera Sublime Addirittura superbo Jerry Scott e Casca a strisciano notizia Rivediamolo E allora signori Buonasera Spari agli zombie in strada È Halloween Mannaggia Ikea produce mobili Cibo dell'Ikea Mobi di Ikea Fact Guarda che carino quel bambino che gioca Il pitbull di 80 kg che si chiama Mr. Baffo Che carino Creatore di detersivi che va a chiamare il suo prodotto Ace Non pensando che tutti Beh effettivamente è vero Ace è o è un succo di frutta o è il detersivo Mamma mi dai dell'ace La merendina aperta in frigo da due anni Che mi vede mangiare altre robe Ho dato tipo il formaggio insaccato Dentro nei cassetti Che diventa tipo radiattivo dopo anni Oppure quando ti dimentichi il pesce nel freezer Beh diventa un fossile dopo un po' Nessuno Mia mamma quando apre la finestra di casa È un giorno ventilato No ma che poi la balordata raga Qual è di questa cosa? Che la mamma ti apre le finestre D'inverno Quando ci sono meno 50 gradi E devo cambiare l'aria Eh sì intanto crescono le stallattiti Nella mia camera È uscito lo Steam Deck Costa 399 euro Prodotto da softpedia.com Dopo aver saputo che la console potrebbe essere lanciata a novembre Amazon Germany ha pubblicato un annuncio per il dispositivo Affermando che verrà lanciato il 21 Alexa stop Quando te l'ho chiesto Cioè boh non lo so Cioè boh Ormai E Boh non lo so Consorsi di condominio iniziano la riunione Dopo le ultime cose io ho paura di andare alle riunioni di condominio C'è da aver paura ormai Cioè ormai hai paura a fare qualunque cosa Perché la gente è diventata completamente pazza Gioco meno violento praticato da due gatti Allora Allora vediamo Eccoli qua I due gatti Ah qua c'è un piccolo spoiler Allora ti devo dire Allora ti devo dire Io non capisco perché i gatti Uno contro uno Non riescono a giocare Ma si debbano per forza menare Non ho capito per cui questa cosa Io che dico a mia madre Sono d'accordo dopo avermi chiamato Beised Cursed Ma poi che nickname è Simpaticoni dopo aver scoperto di quanti gradi è l'angolo della molecola dell'acqua Scopriamolo 104,40 Allora sì Come io dovevo comprarmi 200 episodi del fumetto Per completare la macchinina No dammela subito Te la pago tutta Subito la voglio Guarda Se l'Italia non diventa la grande arteria tra l'Europa e l'Africa Il sud morirà per sempre Io alla mia età Mio nonno alla mia età È vero sta cosa Che camminavano per ore Centinaia di chilometri a piedi per arrivare a scuola al freddo Oltrepassando e superando le montagne Le grotte Con gli anelli del potere Questi sono i miei giocattoli adesso Sono i miei adesso Sono i miei Sono i miei Guarda Ho preso il tuo trenino di Guarda come gioco con i tuoi giocattoli Poldo Poldo Ma lei è completamente pazzo Cosa sta succedendo alla mia ca... Cosa succede... Ma detto questo È giunto il momento di andare ai top della settimana Senza sigla quest'anno Cioè in realtà è tutti gli anni non abbiamo le sigle Sì Sì Arte antica Arte medievale Arte rinascimentale L'arte dei giorni nostri Sì Sì Insomma Which side are you on? Calabria o Ohio? Scrivetelo sotto nei commenti Vedo un topo a grandezza umana che si fa delle foto con un bambino Non sei a Disneyland Estremamente postato dal gabinetto questo La pizza Ho l'Alzheimer Ho l'Alzheimer Quindi ho l'Alzheimer E quindi ho l'Alzheimer No Which side are you on? Kono o Coppetta? Scrivetelo qua sotto nei commenti Insieme a quello di prima Io sono Team Coppetta Cosa fanno le persone del tempo che hanno risparmiato scrivendono CMQ invece che comunque? Oppure che sono gli stessi che scrivono PQ al posto di perché PQ Cioè in realtà quella roba lì aveva senso nel momento in cui c'era il T9 Voi non sapete cos'è il T9 immagino Però era un modo per scrivere con il Nokia 3310 che c'aveva 9 tasti Ok Dovevi scrivere in maniera breve e concisa per scrivere gli sms che non potevano superare i 200 caratteri Adesso invece non c'è più quel problema Vegano medio quando si mordano le fa Oddio Questo è un derivato animale Sono stato a Brescia e vi assicuro che sì è così è vera sta cosa Signori miei è il tempo di chiudere E con terribile disappunto io vi auguro buon Natale, buone feste E noi ci vediamo qua insieme sempre su YouTube lunedì prossimo Ciao